Amici per la pelle sul teleschermo bluuu Quest'oggi ci sta il ganga, non lo levamo piuuu Piaciuta questa? Ma troppo forte, rimatori Io questa inquadratura vengo tagliato C'ho l'anello del potere The Ring of Power Ma è un albero, un fuscello Sì, è un albero alberoso Senti, voglio fare qualche domanda tratta dal quiz book di Dragon Ball Eccolo, quiz book Subito, anticipatamente 6.50 al prezzo Facciamo qualche domanda tratta È rimasto stupito Davide? È stupito Davide? No, no Perché risponde a tutte le domande No, non me la fare perché non posso svelare le risposte Dai, dopo tutti quanti saprebbero e gli roviniamo il gioco Sono molte domande Da dove parte il colpo più potente di Nappa? Quale sarebbe stata la mia risposta? Eh Eh? Eh Non dalle mano Non dalla bocca e neanche dagli occhi Quindi E poi Non lo so Dai, confesso che hai trovato l'unica domanda che non so Però a telecamera spenta ti avrei risposto Sono sicuro Va bene, fai vedere questa edizione meritevole e meritoria Dai Eccolo qua Eccolo qua Con copertina sbrilluccicosa All'interno Embossed Perché pure Sbruzzolata Domande Domande veramente Io mi sono cimentato prima e devo dire che sono Mi reputo un buon conoscitore Buon conoscitore di Dragon Ball Ma ci sono cose che non rimembravo Quindi Bene, bene Chissà il Momo Momo Compratelo e rispondi E dici poi a quante domande hai risposto esattamente Perché lui è un grande collezionista E' stato anche a Londra Si è comprato le versioni In Come si chiamano? No? Quelle proprio Dietro a Nord Corea Tra il 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 Papuasia E l'Indocina Trovo quel posto là Confronteremo le due risposte con quelle di Luca Vado veloce facendovi vedere Un'edizione bellissima la quale tengo molto Perché abbiamo avuto modo di conoscere David Rubini In un incontro qui al Forbidden Planet E' un ragazzo squisito Oltre che bravissimo Qui abbiamo la versione integrale dell'eroe Uscito prima in due volumi Qui per 44,90 euro Vi trovate tutta quanta la saga Cartonatissimo Bellissimo Non so veramente come consigliarvelo Se non dirvi ve lo dovete comprare Ah Quindi A caso avevo aperto una pagina bianca però Ebbè Eccolo qua Quello c'è sempre Grandissimo David Rubin Che ha scritto anche la sala da te Dell'orso malese Tra le altre cose C'è in Beowulf E adesso credo stia lavorando anche Insieme a Paul Pop Qualcosa che ha a che fare Con l'universo di Paul Pop E Come si chiama Mannaggia La miseria Io ho questi voti di memoria Che veramente faccio proprio schifo Niente Niente Non ce la posso fare Tanto voi lo sapete E quindi Potrete Sbeffecciarlo Nei commenti Per la Coconino Press Abbiamo Market Day 17 euro Per questa graphic novel Leggo velocemente la sinostica Luca è contento Sì È un giorno di mercato Quando Mendelman Si appresta a partire Per il villaggio vicino È ancora buio Sul carretto Trenato dall'asino Ci sono i suoi tappeti Realizzati con cura e devozione Ma all'orgoglio Per un lavoro ben fatto Lascia il posto A pensieri neri Come le nuvole Sulla sua testa A casa lascia una moglie incinta È un primo figlio Che sta per nascere Mentre gli affari Non vanno più bene Come un tempo E sembra che il mondo Intorno a lui Stia cambiando Oh yeah Ok Guardiamo un po' Belli disegni Sì Sì Ti devo dire Lo stavo sfogliando anch'io prima E mi sembra notevole Un'opera notevole Bello Bello Jim Sturm Poi Qui Volantibus Volantibus Cartonatino Che ha per oggetto Monster Allergy 14 euro E 90 Il titolo è Evolution Monster Allergy Evolution La Valle dei Bombi Che non è il film con David C'è Katia Centomo Francesca Artibani Barbucci Canepa Chi più ne ha Più ne metta Quindi Il team Lo conoscete Sicuramente Ergo Accattatil Giusto? No? Marone Com'era? Com'era con le manine? Rifammi un po'? Bene Cartonatino Dicevo Tu no è Anche in questo caso Poi Io rimango in casa Coconino E abbiamo Luna del Mattino Per fare rima di Francesco Cattani 19 euro Questo Bruce Raided 24 ore in rivolta In cui tutto accelera Muore e rinasce Una storia di sangue Fiocchi di neve La adrenalina del mattino Il cuore della notte Facciamo vedere Ma sta Però Ma la cucconino Sotto le gira di Rattiger Ma non so se sono titoli Che hanno acchiappato prima Per carità Però sta sfornando Cose notevoli Eh? Sì sì Devo dire che Sembra pure questo Veramente molto interessante C'è sottispa C'è sottispa Sì 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 È proprio fresco L'ho detto il prezzo 19 euro Non lo ricordo Ma tu io mi ricordo Quello che ho detto 5 minuti fa 5 Diciamo 30 secondi Fa è meglio Doom Patrol RV Lion 15 euro e 95 I supereroi più strani Del mondo Rinati No Renati Rinati Gli atomi stanno vibrando Sogni occhi aperti A Follano Perché sto dicendo A Follando Quindi No va bene A Follano A Follano ci sono strade senzienti Piromani generazionali Unitevi Questa è la Doom Patrol Il dio dei supereroi Sta sanguinando per terra Mi piaciuta? No non ridere Dai Dai Non fare così Sono troppo forte Lo so Gerard Way E Nick E Nick Darrington Andiamo a far vedere Perché poi Noi sappiate Che giochiamo Scherziamo Anche per farcela passare Un pochino Perché comunque È un momento Strappato Al lavoro Ma che comunque Sempre lavoro è E quindi Vediamo Ma questo non va A intaccare Il valore Intrinseco Dell'opera Che mi sembra Tra l'altro Molto valido Bei disegni Bei colori Lo scrittore visionario E cofondatore Dei My Chemical Romance Eccolo chi è Gerard Way Hai capito? E che ha scritto anche Umbrella Academy E il disegnatore Nick Darrington Catwoman Ecthetics Inaugurano il primo titolo Della serie This is Young Animal Con Doom Patrol Volume 1 Un pezzo per volta Una pazzesca reinvenzione Di una delle serie Più stupefacenti Nella storia Della DC Comics Doom Patrol È un nome Molto importante Contiene i numeri Dall'1 al 6 Per tutti voi appassionati Che vi vestite Nei panni Dei vostri eroi migliori Lasciate perdere Luca Io sono mascherato da ganga E concentratevi Su questo Cosplayers Madonna Wada Adesso la presentazione È completa Sì Perché mi sembrava Lagunosa 17 euro Per questo Volume Con tutte storie Appunto Dedicate Cosplayer Ho visto il futuro Del fumetto Il suo nome Da show Che sarebbe L'autore E Detto Da David Mazzucchelli Quindi noi alziamo Entrambi Le mano Esatto Affollano le fiere Del fumetto Le convention Dei giochi Festival del cinema Schiere di giovani Che impersonano I loro personaggi preferiti Indossandone i costumi Imitandone le poste E declamando A memoria I loro dialoghi Sbedere Bedere Bam Ti piace? Sì sì Ho fatto un uracolo A nostro onora Cia piace Cia piace Cia piace Brangerang Il grande mago piccolo C'era Insieme al grande mago piccolo Volume 4 Per Superman La New 52 Library A prezzo 18 euro E 50 All'interno Ci becchiamo Un Superman Anno al numero 2 Più i numeri Di Superman Dal 18 Al 24 Oltre che il numero Action Comics 24 A Metropolis È in atto Una guerra segreta Che ha come campo di battaglia La mente Dei suoi stessi cittadini Infatti il titolo è Attacco mentale Energia A me Quello era Dead and Dream Sto sbagliando Chiedo Chiedo Mi mente scusa Quello era Attacco solare Gli attori Gli attori Sono Scott Lobdell Mike Johnson Kenneth Rockford Aaron Kuder Eddie Burroughs Friday and Blazin Non lo conosco Quest'ultimo Blazin è fortissimo Quanto ti piace Quando dico Ste sciocchezze E proprio La lingua tedesca Abbuzzata E qui abbiamo appunti E piena di bozzi Infatti Per una storia di guerra Del video Nuova edizionosissima GP 19 euro Sempre coconino Noi continuiamo a decantare Mi piace anche il volume Forse Questo formato Un po' Grosso Di pregio C'ha che comunque Mette risalto Le tavole Morto Solo che Può risultare Un pochino Un po' Più scomodo Da leggere Però Però In medio Stat Virtus Io lo dico Perché mostro Te leggo In deletto Io se devo dire Una cosa La delicatezza Dei volumi Coconino Secondo me Dovrà la formula Per renderli Un pochino Meno delicati Sono molto Delicati Manifest Destiny L'albetto Picciolo Picciolo Picciolino Arriva al numero 11 Per questa saga Che a te Garrupa tantissimo Perché ti piace molto Io sono Ancora al primo volume E è uscito il quinto Quindi sto veramente avanti Il prezzo È 3 euro E 30 Quest'edizione Si sta avvicinando Ragazzi Perché Stavo scogliando Questo Ed è Diciamo Più o meno A metà Del quarto Brossurato Ciocca Illustration Il quarto Sì Più o meno A metà Quindi insomma Iniziamo a essere Lì lì Boom E via Speriamo di dirlo bene Abbiamo sempre Coconino Abbiamo Yuri Asanissimasa Igort 14 euro Non so Che hai detto Però Vabbè Mi rito di te Yuri Asanissimasa Sì Sì Facciamo vedere Pagina bianca Che racconta Come leggere Il titolo E voilà Oh ma Se figa E le illustrazioni Molto molto belle Beh Non lo so Se permette Igort Braa Sdrugus E poi c'è Una sorta di Di conflitto Perché Igort Ha creato E' uscito Alla Coconino E' passato Alla Oblomov E fa strano Vedere un titolo Di Igort Ancora pubblicato Da Coconino Vabbè Un gioco così Strategicamente Militare Di specchi Ma che cazzo Perché diciamo La leggo un po' Sinossa Nel 1994 Un'equipe Composta da Igort Yasumitsu Tsutsu E te Dei cerchi Però E Midori Yamane Lavorano Al primo esperimento Di manga Yamane e Midori L'ho pure conosciuta Era un assistente Di Tezka Se non sbaglio Vedi Traduttrice Editor Sì Di Comic Morning Che vedeva Un milione e quattrocentomila copie Ogni settimana Però La domanda è Sinididu Giusto Non ne conosco la risposta Forse sul volume di Dragon Ball Quella che ha Davide La Second Sight Eh sì sì Come vede lui Ci vedo io Volume 1 I Peccati degli Uomini Attenzione Buttateci un occhio Perché ci abbiamo Ve lo ridiamo Perché ve lo ridiamo Perché ci abbiamo Alberto Ponticelli Ecco qua Ai testi David Hine Vi faccio vedere Un po' Di disegni Rimarrei su questa pagina Mentre vi leggo Un po' di sinossi Ray Pilgrim Può entrare nella mente Degli assassini seriali E assistere ai loro delitti Più efferati Anche se l'esperienza Lo distrugge Dal punto di vista psicologico Ray diventa uno Dei consulenti Più preziosi E decisivi Di Scotland Yard Almeno fin quando Non viene trovato drogato E privo di conoscenza Sera fatto un sabato Un po' così E a volte succede Eccolo qua Altri disegni Del bravissimo Ponticelli Volume 1 The price is right I don't know 14,90 Sempre con le Alette Poi E poi vi faccio vedere Un altro fuori formato Molto grosso Che bomba 6,76 Apparizioni di Killofair Questa mi piace una cifra È scomodissimo Lasciatevelo di Ma non poteva essere Altrimenti Perché guardate Che tavole spettacolari Veramente notevolissimo Ci sono anche un po' di Di taralli sparsi Qua e là Però insomma Cerchiamo insomma Di farle scorrere In modo che L'opera Secondo me meritevole Magari non lo fa vedere pure tutto Perché sennò Prima o poi Obecchi Il pubblico gioiva Il pubblico gioiva Ecco qua Flash numero 21 Per il capitolo della rinascita Prezzo 3,95 Il ganga si taglia Che cosa ti tagli Devi pure far vedere qualcosa Devo far vedere qualche cosa Di nuovo e stimolante E certo All'interno C'è comunque Freccia Verde Ed Aquaman Team creativo Williamson Percy Abnet Gug Carlini La nostra Eleonora Carlini Mircandolfo Briones Un botto Un botto Di gente E ci abbiamo Belle tre storiole Se vi becco Qualche cosa Di carino Vi faccio vedere Un po' di disegni Delle nostre Eroine Che sono brave 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 Le eroine Sono le nostre Disegnatrici Intendevo Poi Povero Flash Abbiamo Per la Star Comics Mob Psycho 100 Il primo volume Quando hai l'accento Esplode Il suo nome è Mob Lo studente Shigeo Kageyama Detto Mob Sogna di poter vivere Un'adolescenza Normale Shigeo Avrebbe corretto Simone Che c'ha ragione Vabbè Sogna di poter vivere Un'adolescenza normale Ma ha dei poteri speciali O meglio Paranormali Come te Esatto Spiritistici Charlatani Spiritistici Spiritistici Charlatani Loschi Gruppi religiosi E via dicendo Numerosi individui Cominciano a radunarsi Per sfruttare le doti Del giovane Mob E dentro di lui Qualcosa inizia a muoversi Infatti all'inizio Troviamo tipo Ryger Non so Un tizio senza alcun potere Che si finge spiritista Ma in realtà Riesce a risolvere i casi Grazie all'intervento di Mob Che viene sfruttato Dalla sua agenzia Per 2,35 euro L'ora Mentre lui è un povero studiente Studiente delle medie Sì Studiente delle medie Che invece di dedicarsi Che ne so I gruppi sportivi O i club Dopo scuola Viene sfruttato così Per risolvere omicidi Senza fare un pube Poverino Justice League America Numero 7 Bubù 3,95 euro Ti è piaciuto 7 te Bubù? No va bene Abbiamo Orlando Percy Priest Abnet McDonald Burger King Fam Ed Hester Dopo un po' c'hai fam Ovviamente 3 storielle 3 storielle Ci spizziamo Le tavolelle Eccola qua Le più belle Le più belle Esatto C'è ragione Brava Stavolta Ma è proprio Ma è proprio Meravigliato Che bassa lega Bassa sega Eccolo qui Per il film Che esce Il 16 di novembre Quindi Oggi Oh Colpo di scena Quindi non vedrete la puntata Perché sarete tutti al cinema Disgraziati Disgraziati Ma poi Ma poi Ma poi Abbiamo Plinius Primo volume 5,90 Yes a man Anche questo È il giovane o il vecchio Che ne so Vabbè sarà il vecchio Però dentro lo dici Esatto Anche questo volume Come quasi tutti quelli flashbook Ormai con sovracoperta Ovviamente Si riferisce Come diceva il buon Luca A Plinio Penso il vecchio Io Guarda però lo dovrebbe dire A parte far vedere le tavole a colori Perché ci sono anche le tavole a colori Esatto La scrittrice Barra disegnatrice Perché è un team creativo Che non si capisce bene Fanno tutte e due Tutte e due le cose Probabilmente Non sono riuscito a capirlo È la stessa di Terme Rome Sì Bravo Bravo Tanto per capirci Gli piacciono i romani E fanno molto buono Se me lo passi un secondo Provo a vedere Se c'è la spiegazione Scusami Davide Eccolo qua Il protagonista è Gaius Plinius Secundus Il più famoso studioso Di scienze naturali Della storia Però sarete più bravi voi Se dal Secundus Capite se è il giovane o il vecchio Boh Se è arrivato secondo Sarà più giovane del vecchio Madonna mia Che deduzione Deduttibilità Magari il padre Era forte a giovane E poi si è un po' spento Lui invece è Justice League Numero 17 Attenzione 3,95 Ragazzuoli Bebebem Itch Abnet Percy Priest Lobdell Booth Soy Se ripetono in continuazione Sono sempre gli stessi Nati Fanno il giretto 3 storielle Ragazzuoli E ci andiamo a beccare Questa semi Splash Splash Splush Evoluzioni mistiche Di un flash Così A cianca aperta E di nuovo Un flash Sbetebetebem E poi E poi E poi E poi per Star Comics Abbiamo un mix Del mitico Mitsuru Adachi 450 Anche questo volume Come precedenti Dotato di sovraccoperta Nono volumetto E insomma Che dire Sulla Adachi Niente Oltre che Adachi quanto ci piace Basta Esattamente La formula è quella E funziona Tutto ora funziona Vi facciamo rivedere La truffa 100% HD Proposto da Panini A 14 euro Che contiene The Fix Dall'1 al 4 Voi direte Ma perché Ci fate rivedere la truffa Il motivo È presto detto Perché ci ha scritto Steve Lieber Il disegnatore Mandandoci una cartolina Con disegno originale Per ringraziarci Del supporto Che stiamo dando Al suo albo Ed è stato Veramente carinissimo Una cosa inaspettata Che rende decisamente Piacevolissimo Il nostro lavoro Dice To everyone At Forbidden Planet Roma I'm just writing To say thank you For supporting my comic La truffa The Fix I'm very excited About the Panini edition And I hope It does well for you Grazie Steve Sei stato veramente Gentile E squisito Poi Quindi se volete Che anche a voi Mandi la cartolina Insomma Sapete Ospitate gangaccina a casa Magna come uno scofanato Esatto E poi dopo Magi La ceramica Sopre Spero abbiate Della buona ceramica A casa E non è quella Dei piatti Che bastardo Allora Magi Adventure of Sinbad Dicevamo Undicesimo Volumetto 4,30 Il prezzo Per questa Serie Parallela Alla principale Magia Paranormale No Ancora no Facciamo vedere Qualche imago Penso Si Disegnatore Sempre lo stesso Sicuro Non è che scrive Il disegnatore In altro Ma guarda A vedere i disegni Mi sembrano Assolutamente identici Secondo me Il disegnatore In altro Ma solo voi Potrete svelarlo Qua ai tizi Del TG Comics Vi faccio vedere Vi faccio vedere Un altro titolo Che mi interessa Molto Perché ero Molto legato Alla Wildstorm Di un tempo Magi No E qui Il grandissimo Warren Ellis Praticamente Ci rifa Cominciare Ci rifa O ci fa Ricominciare Forse Cilincione Cilincione Il nostro amico L'universo Wildstorm Ricomincia da qui 14,95 euro Vediamo Se riesco a leggere Perché lo sfondo È un po' Difficoltoso Il pianeta Terra È segretamente amministrato E controllato Da due agenzie Di spionaggio Perennemente coinvolte In uno stile Guerra fredda Tra loro Ma quando una terza fazione Con un segreto Incredibile Si inserisce in tutto questo La sola cosa che manca È qualcuno Che accenda la miccia E ci potrebbe Pensare Davide Quando Angela Spica Ruberà una tecnologia Che non dovrebbe esistere Per sperimentarla Su se stessa Ecco che la miccia Si accende Hai capito? Qua dentro Non so quanti numeri Ci sono Vediamo se riesco A capirlo I primi sei numbers E insieme a Warren Ellis Abbiamo John Davis Hunt E andiamo a vedere Qualche tavola Di questo volume Brossuratello Ecco qua Ho visto un grifter Ed ecco qua Sbada bam Una splesciona Poi Svolazzando Svolazzando Continua la serie Dedicata a John Costantin Informato Bonelliano Numero ventitresimo Anche questo Al solito presto Di 3 e 50 Confessionale Il titolo Bada Bada Bam E voilà Aspetta Aspetta Faccio filotto Con Fables Anche questo Formato Bonelliano Che arriva Al numero 39 Se non erro Esatta Mond Anche questo 3 e 50 Peter Piper Sa di pan Ma no Non c'è pan Per i tuoi denti Mi dispiace Non è vero Non c'è la miseria Niente Ma io vi faccio vedere Un volume Sergio Bonelli Editore La storia Del West Attenzione La realtà E la leggenda Nel capolavoro a fumetti Di Gino D'Antonio Prezzo 32 euro Tre generazioni Di un'immaginaria Famiglia di pionieri Intrecciano le proprie vite Con quelle Dei personaggi reali Che hanno segnato L'avventurosa conquista Dell'Ovest americano Nell'arco di un secolo Brett MacDonald E i suoi discendenti Crescono Invecchiano Muoiono Restano fedeli Per quanto possibile Ai propri ideali di lealtà Giustizia Rispetto per sé E per gli altri Mentre un'onda di violenza E prevaricazione Cambia definitivamente Il volto di un paese Che non è Come prometteva L'anticamera Del paradiso E Vi faccio vedere Questo Bellissimo Bellissimo Volume Dedicato Veramente Proprio Fa la sua Bellissima figura Ho usato Bellissimo Come termine Poche volte poi E abbiamo anche Outcast Anche questo È vero Quindicesimo volume Sempre nel formato Bonelliano Il prezzo 2,30 E Che dire A me questa serie Piace molto Devo dire Sto affaticando Sto affaticando Perché Perché Mettono tutti i prezzi Sua copertina Non li posso Vedere dietro Devo dire Serie che Come diceva appunto Mi piace molto Sono molto curioso Non ho visto però La serie tv Me l'hanno sconsigliata Ah io ho visto Le prime quattro Da seguire Non è facile Perché Un po' lentina Però Justice League Le grandi storie Attenzione Volumone cartonato Proprio per celebrare Il film 29,50 euro E come al solito All'interno Ci sono le storie Più rappresentative Della Justice Uno per tutti Tutti per la giustizia Questo volume Raccoglie alcune Delle più rappresentative Storie del principale Gruppo di supereroi Della DC Comics Dalle scintillanti origini Di Gordon Fox E Mike Sekoski Alle più coupe Storie di Lin Vine E Dick Dillin Dalle rivoluzionari Avventure immaginate Da Keith Giffen John Mark De Matteis Grant Morrison Brett Meltzer E illustrati Da Gene Ha Kevin McGuire Kurt Swan Howard Porter J.H. William III Ethan Van Schiever George Perez Alle più recenti Redizioni moderne Di Jeff Jones E Jim Lee Massa Ho detto tutto Più o meno E vi faccio vedere Unii Due Unimezzi E due E tre No Non mi piaceva E rimaniamo Con lo stesso formato Abbiamo Volt Che vita Da Mecia Numero 6 E qui voglio salutare Il mio nipotino Davide Che è un assiduo lettore Esatto Il figlio di Sandra D Saludiamolo Ciao Davide 2,99 il prezzo Si chiama come te Sei contento? Io un sacco Ma è visto Ciao Davide Copriamo Luca No perché mi copri? E poi non mi vede più E attenzione Batman il Cavaliere Oscuro Ancora rinascita Si rinasce sempre Numero 9 Prezzo 4,95 Perché è un po' Più cicciottello Snyder Larsson Benson Benson Jürgens Jock Fraccavilla Wailgus Antonio Chang Fring Flung Flung Un 2 3 5 5 Storie Abbiamo fatto cinquina Tombola e ancora no e ancora niente non si sa niente per la tombola e vabbè tanto io farò tombolino come sempre non è che se scappa poi abbiamo anche Wonder Woman Wonder Woman ventunesimo volume 3,95 il prezzo sempre Ruka Imenetz Bennet Tinian IV L.A. Herbert Segovia e Heftin tre storie li volete titoli e poi Luca se rimane molto male se rimane sei proprio un fame sei fame e sete proprio mamma mia quanto sei bravo grazie collana maestro per la salda ripeto collana maestro per la salda press una storia di Tiziano Sclavi illustrata dal bravissimo Mario Rossi attenzione agente Allen il prezzo 19,90 euro un volume che raccoglie tutte le storie della serie scritte da Tiziano Sclavi e Mario Rossi pubblicate dal 1983 al 1986 nel settimanale Il giornalino prima di Dylan Dog prima di X-Files prima di Carlo Cracco e Chef Rubio non capisco che c'entrino c'era l'agente Allen Philip Allen il miglior agente della sezione Strange del servizio segreto inglese ma ha abbandonato la carriera di spia per seguire la sua grande passione la cucina ecco perché ogni tanto però aiuta il suo vecchio capo a risolvere i casi più inspiegabili alieni mostri giganti lupi fanari fantasmi poltergeist robot e persino ganga vere e proprie indagini dell'incubo io però ci sto al capitolo finale ah proprio il mostrone madonna santa ecco perché è finita la serie perché poi non conto da te esatto guardate che belli disegni mi piacciono veramente un botto bravo Mario e chiudiamo il puntadone con il volume 20 e chiude questi ah quelli di tenevi nascosti per dopo torniamo indietro abbiamo il volume 23 di invincible per la salda press padri e figli sei proprio un ritornante guarda 14 e 90 tutti appizzi i fumetti i loghi indicibili indicibili adesso indicibili fire punch numero 4 edizione star comics per il nostro uomo incendiario che non si spegne mai un miracolato pieno di potere che però è vittima allo stesso tempo di una maledizione io sono rimasto al numero 2 devo leggere ancora il 3 voglio andare avanti perché non mi era dispiaciuto per niente molto molto figo bello il tratto anche un po' sporco così che è accattivante devo dire mi sentirei di consigliare di consigliare l'inizio di questa serie poi magari al quarto cambio parere però fino adesso mi è piaciuta notevolmente prezzo 4 euro e 90 sopra coperta e vi faccio vedere quel tipo di disegno che vi dicevo et voilà poi per la Goin edizione abbiamo Moia Simone che continua la serie ereditata dalla GP arrivando al numero 10 sempre con stesso formato con doppia sovraccoperta che se la apro tutta si spacca 7,50 il prezzo oh la la Masayuki Rakawa no Ishikawa Ishikawa ho capito non si kawa un ragno dal buco radiant numero 3 finalmente arriva attenzione per la manga senpai un titolo che vende molto 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 bene ti piace essere comandati non è vero amate che qualcun altro scelga per voi a masso di larve vi farò una cortesia dunque e vi spiegherò cosa farete nella prossima ora pregate e tremate morite anche questo un volume con sovraccoperta la simpatia il prezzo è 7,90 e vi faccio vedere però anche l'interno super successone veramente veramente sì 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 notevole notevole probabilmente saranno contenti sia Piero che Momo perché mi sembra che lo seguano seguino seguino in casa Star Comics abbiamo anche LDK che arriva al numero 22 4,30 il prezzo Aoi e Shusei hanno deciso di interrompere la convivenza fino al diploma ma giorno dopo giorno nei loro cuori non fa che aumentare il senso di solitudine hai capito come con te Riccardo proprio è uguale tra di voi aumenta il senso di solitudine di solitudinate pensavo aumentava il diploma no niente diploma Ultraman eccolo qua numero 9 prezzo 5,90 questo evento è il primo passo verso lo scontro finale in cui è in gioco il destino del mondo attenzione attenzione si inizia a profilare il finale attenzione si profila abbiamo Ichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi ma so non me lo sarei veramente una macchina non me lo sarei mai creso ecco ve lo fa vedere però questa bella illustrazione corolata questo è splash page sì poi ci abbiamo un alvezzo che se venire in negozio ve lo regaliamo perché è una preview gratuita della J-pop per quanto riguarda The Promised Neverland un titolo di futura uscita ecco qua lasciamo vedere disegnato benissimo molto sghicio le vogliono bene come a una mamma ma non lo è vivono tutti insieme ma non sono fratelli Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio fino al giorno in cui la loro vita viene improvvisamente stravolta quale destino li attende ora che conoscono la verdad eh non lo so e poi ultimo ultimo altro albetto gratuito sempre per i titoli Aftershock pubblicati la salda press animosity eccolo qua sbarabarabam ora sono come noi i nostri peggiori nemici gli autori sono Marguerite Bennett e Raffaele della Torre e vi faccio vedere i mago i drawings anche questo se venite in negozio fino a esaurimento scorte è omaggione bene la puntata finisce qui il Ganga è veramente performantissimo guardate che sorriso smagliante che detiene noi vi invitiamo ovviamente ad iscrivervi al canale del Forbidden Planet Roma alias alias TG Comics e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati mettete un bel mi piace per far sì che il canale troneggi galleggi e vi faccia vedere sempre i video e migliori stiamo facendo una raccolta fondi per comprare una nuova Zimarra e migliori e prosperi no perché sennò perderebbe tutti quanti i suoi acari protettivi poi iscrivetevi alla pagina TG Comics su Facebook tra le altre cose devo ringraziare tutti quelli che lo hanno già fatto perché abbiamo superato le 2000 iscrizioni siamo già quasi a 2030 siete veramente speciali ora potete dire che non è merito di Luca non è merito mio e potete anche iscrivervi alla pagina Facebook del Forbidden Planet Roma vi ricordiamo che la lista qua sotto non è completa quindi potrete trovare dei titoli che chi non ha una fumetteria vicino può ordinare cliccando e supportare il canale o il canile fate come vi pare io vorrei un nuovo cagnolino quindi forse probabilmente nella mia famiglia entrerà un nuovo animaletto bello 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 va bene sarà sicuramente più pulito del ganga le battaglie sono tante vieni avanti cagnolino gigante e che il cipi di merlo sia sempre con voi arrivederci miauu